Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi 4 luglio. Vediamo quali sono le cose fondamentali. Insomma, la prima questione fondamentale è questa famosa procedura di infrazione, che non è arrivata all'Italia, la procedura di infrazione. E qui mi duole essere un po' d'accordo, vi sembrerà assurdo, con il pezzo di Travaglio su una questione fondamentale. Il direttore del Fatto Quotidiano, il portavoce del Movimento 5 Stelle, insomma Travaglio ha ragione, ogni tanto anche i 5 Stelle hanno ragione, è che i giornali italiani fino ad oggi ci hanno raccontato la storia dell'infrazione, prima dicembre e poi ora quest'estate, come se fosse una cosa fatta. Cioè confondono la speranza con la realtà. Cioè in realtà esiste un partito forza spread, è esistito con Berlusconi, esiste con questo nuovo governo, c'è una sorta di partito che gode se l'Italia va male. Tra l'altro lo spread proprio oggi è sceso, proprio ieri, è sceso sotto quota 200. In realtà ci sono due motivazioni secondo i giornali, il Sole 24 Ore in particolare, per questa discesa dello spread. La prima motivazione deriverebbe appunto dal fatto che non c'è questa procedura di infrazione, ma già stava scendendo nelle settimane scorse, vi ricorderete che nella zuppa ne parlavamo. Ma la seconda questione fondamentale nasce dal fatto che la Lagarde, secondo quello che mi leggo oggi sul Sole 24 Ore, che giornale su questo che ne parla di più, la nuova Presidente della Banca Centrale Europea sarebbe in linea con la politica diciamo un po' ridassata di Mario Draghi. Almeno questo lo dice la Bufacchi che su queste vicende direi che ne sa moltissimo. L'Italia l'ha scampata! E Rosica si capisce chiaramente nel titolo di apertura alla Repubblica che a differenza di dicembre scorso, quando era Fubini il Corriere a dare per certa una procedura di infrazione che non ci fu, adesso è Repubblica che dava per certa una procedura di infrazione che non c'è stata. E come titola oggi? L'Italia la scampa! Ed è straordinario il gioco politico-editoriale. Prima ti inventi, nel senso che crei una realtà che non esiste, la procedura di infrazione sicura, quando ti accorgi che quella realtà non si verifica, che hai una tua speranza e non una tua realtà, che cosa fai? Beh, dici l'Italia la scampa! In realtà è stata una trattativa che l'Italia ha fatto con l'Europa e il segnale di questa trattativa che forse l'Italia ha fatto con l'Europa, anche se non lo dice in un'intervista a Conte oggi a pagina 3, è che c'è stata una grande trattativa europea, nel senso che è inutile che ci prendiamo per i fondelli, l'Italia da questa trattativa europea ha perso posizioni rispetto all'ultima volta, ma era inevitabile che le perdesse, perché una congiunzione astrale di avere il Presidente della Banca Centrale Europea, l'Alto Commissario per gli Affari Esteri, il Presidente del Parlamento Europeo, insomma avere tutta una serie di nomine targata italiana, è stata una congiuntura difficilmente ripetibile, abbiamo preso Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, abbiamo preso probabilmente un portafoglio economico importante nella Commissione Europea, che vale di meno nella gerarchia europea dell'Alto Commissario Malamogherini, ma che cacchio è servita, meglio un bel Commissario Economico, dice giustamente Conte, ma anche il pensiero normale, e sulla Banca Centrale Europea l'idea è che abbiamo perso il banchiere centrale, abbiamo nominato sostanzialmente la francese in linea di continuità con Macron e Sarkozy, ma abbiamo la possibilità di mettere nel board ristretto della Banca Centrale Europea un altro italiano che non ci spettava, probabilmente panetta della Banca d'Italia. Insomma non mi voglio annoiare, ma la questione fondamentale è che in questa grande manovra europea, ragione forse, chi è che lo scrive oggi? Lo scrive l'Alberto Signore sul giornale, è un accaporetto, non per l'Italia, ma per il movimento di Salvini, cioè Salvini non porta a casa nulla, si prende un parlamentare della sinistra come Presidente del Parlamento Europeo e non ottiene assolutamente nulla, ed è, devo dire, tra i due sovranisti gode la sinistra, che è il titolo del giornale, che è abbastanza azzeccato. Tagliani in un'intervista, mi sembra, al Corriere dice non abbiamo votato Sassoli, abbiamo votato scheda bianca e non come la Lega che ha votato contro, perché comunque è un italiano, però spiega bene Tagliani come il Presidente del Parlamento Europeo sia stato fatto in una specie di nomine a pacchetto, come quelle che si facevano al CSM, cioè hanno messo insieme tutte le nomine, uno alla Commissione, l'altro alla BCE, eccetera, e dice questo è molto poco democratico e svilisce il ruolo del Parlamento Europeo. Io non fui eletto così, dice Tagliani. In realtà poi si dovrà vedere chi sarà il Commissario, ma nell'idea della spartizione, secondo i giornali, il prossimo Commissario Europeo italiano sarà in quota Lega, così come il Ministro degli Affari Europei sarà probabilmente Bagnai, Dracula, all'Avis. Chi sono i candidati, secondo i giornali oggi della Commissione Europea? Giorgetti si è tirato fuori, c'è il messaggero che dice che potrebbe essere Fontana e ci sono altri giornali che dicono che potrebbe essere Centinaio. Fantastica l'intervista a Putin oggi, è una lettera anche alla stampa di Putin, ma quella del Corriere è stupenda perché è una delle poche interviste scritte, nel senso che le domande sono scritte e lui risponde per via, è scritta ed è firmata da due persone. Cosa dice? Poco o niente, devo dirvi la verità. Dice semplicemente che vorrebbe abolire le controsanzioni della Russia contro l'Italia, ma dice ma finché ci sono le sanzioni europee nei nostri confronti, la nostra è semplicemente una relazione e grande stima per il Cavaliere. Devo dire che non è un'intervista da strapparsi i capelli per le novità, arriva in Italia, sarà più interessante vedere quello che succede in Italia. Sulla questione di Carola, il pezzo migliore di oggi è quello di Biloslavo, che ci racconta sul giornale le cinque bugie che la Jeep è riuscita a scrivere, poi io non attacco la Jeep, non me ne fotte nulla della Jeep, la magistratura di sinistra sappiamo come la pensa, e probabilmente anche questa Jeep, ma la cosa incredibile è che oggi in maniera lucidissima Biloslavo sul giornale dice le cinque bugie, il soccorso non era un soccorso ma era un recupero, lo capiscono tutti, mentre invece per la Jeep era un soccorso, la Tunisia per la Jeep non è un portosicuro nonostante i milioni di turisti italiani che ci vanno, poteva violare il blocco perché non era un blocco secondo la Jeep, lo speronamento della navetta della guardia di finanza, visto il video dice il Jeep non mi sembra una cosa così, mi sembra una cosa da ridimensionare e comunque la Libia non era neanche da considerare il soccorso della Libia nei confronti di questi poveracci, insomma la piena e pura ideologia, come possiamo dire, del manifesto avvenire che è il giornale più di sinistra d'Italia, basta leggere poi oggi non tanto Biloslavo dal punto di vista più chiaro, ma leggete Nordio o leggete Tinti su Italia Oggi o Nordio su Messaggero che sono due magistrati che dicono come quella sentenza del Jeep faccia acqua da tutte le parti, d'altronde di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una magistratura per cui il procuratore generale, cioè quello che detiene la sanzione disciplinare, l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, un certo Fuzio che fa parte di diritto, non deve neanche essere eletto al CSM, si incontra con Palamara e dice è un agguato, è venuto sotto casa mia, non lo sapevo, ed è lo stesso che avvia un'azione disciplinare con Palamara ora a cose fatte, ma soltanto poche settimane fa il 25 maggio incontrava Palamara per tramare sulle nomine di Roma e sulla sua questione giudiziaria, cioè stiamo parlando di una roba per cui io li vedo questi magistrati che quando tocca loro, quando tocca gli altri invece sono rigorosissimi. Di Maio è straordinario, oggi leggo sui giornali, mi sembra su, ma su tutti i giornali che non c'è nessuna preclusione a fare entrare Atlantia all'Italia. Siamo veramente alla commedia degli assurdi. Vera notizia di oggi, importantissima invece, sono i nati in Italia, solo qualche numero, ne parla mi sembra il titolo, lo fa soltanto il quotidiano nazionale, Michele Brambilla in prima pagina, 439 mila persone e 439 mila nati nel 2018 in Italia e il record negativo di nascite dal 1861. 55 milioni virgola 104 sono gli italiani, 235 mila italiani in meno rispetto al 2017. In 5 anni sono state persi in Italia 677 mila italiani. Meotti giustamente sul foglio oggi nota come se non ci fossero gli italiani immigrati di seconda generazione, in Italia sarebbero venute meno 1 milioni e 200 mila persone. Allora questo non giustifica la racchete, ma un liberale sa perfettamente che un flusso ordinato e comunque incentivi alle nascite in questo paese potrebbero essere utili, ma se tu quel flusso ordinato lo fai fare alla racchete e ai rastoni è evidente che gli italiani normali pensano che non sia quello il modo di rimpolpare la demografia di questo paese, è chiaro? Perché tutti metteranno in relazione il fatto che nascono nemmeno in Italia con la racchete. Non è così. L'immigrazione in un paese sano ci sta, si è controllata, giudicata e come possiamo dire voluta, non si arriva con i balconi, ma questo ovviamente è un po' difficile farlo capire ai nostri magistrati e ben pensanti italiani. Un saluto a tutti voi, ciao!